Una felice serata a tutti voi da Marcus, 60 in posizione a Venezia, quarto colpo di gioco questa sera, c'era persino un 6 6 e 60, guardate la terza posizione, 60 Allora qua ci voleva o un 86 o un 68 Per un pilu Poi l'ultima pallina credevo che fosse 68, ho detto cavolo ci siamo Guardate l'89 come frega, sembra 68 Però avete visto, 60 con l'80 Guardate qua, se c'era un 90 era una bellissima cosa Guardate qua, subito E' andata così, dai 60, terza posizione secca, unica posizione Stavolta avete visto, non ho messo due posizioni ma una posizione sola Dove il 60 è arrivato, non ho messo l'ambetto ma ne avevo parlato comunque Che chi voleva fare l'ambetto lo poteva fare Ma va tutto in automatico, sono solo due ambi, l'avevo detto 60, 68, 86 Vabbè, è arrivato un ambetto Esce l'89 anziché il 90 Ma vedete che il 90 non si farà attendere Quindi chi ha giocato il 60 e il 90 Insieme all'86, 68, 90 ha fatto l'ambetto Infatti stanno arrivando tantissimi scontrini di nuovo Guardate ragazzi, c'è una marea sia per la posizione Sia per gli ambetti Guardate che bello 60, 86 e ambetto Poi ambetto, guardate quanti ambetti che ci sono Si interzina Poi la posizione E... La posizione secca Poi la posizione secca Guardate, l'ambetto interzina La posizione Guardate che bello qua Quindi ambetto Vedete, 60 e 90 ambetto Posizione secca Andiamo avanti 60, 86, 2 euro di ambetto Così che si gioca Meno l'ambo, più l'ambetto Complimenti Ne stanno arrivando tantissimi Tantissimi di nuovo Una caterba Vedete 60 e 90 Lo stesso col 90 Perché abbiamo parlato del 90 E quindi La terzina era 60 Le tre ambate 60, 79, 90 Ambetto con 60 e 90 Siamo sempre lì con i soliti discorsi Uno Cosa fa? Si gioca anche l'ambetto Avete fatto benissimo Ne stanno arrivando una caterba Guardate quanti ce n'è Ce ne sono ancora in arrivo Per cui questa condizione qua Dovrebbe essere già conclusa Ma attenzione Vi faccio vedere un'altra cosa Che qua è estrazionale Guardate che questo 60 Esce giù a Torino Va scendo a Torino Quindi 60 Torino Il 9 Che l'ho marcato anche lui Roma e Firenze Attenzione Abbiamo un doppio 90 E adesso il 9 Che va a Roma e Firenze Quindi 9, 90 Vedete che dovrebbe arrivare La Milano Ho detto 9, 90 Ma adesso c'è anche un 9 Che va a Roma e Firenze Quindi attenzione C'è la doppia condizione Ettennaia Firenze e Roma con 9 Potrebbe succedere Che possa arrivare anche il 9, 90 Su Firenze e Roma Da valutare tante cose Mentre invece Questa condizione Dato che c'è il 60 A Roma Può scendere a Torino Io direi che Ragazzi Questo è un quarto colpo di gioco Se è venuto l'ambatta secco Più l'ambetto Io direi di proseguire ancora Lunedì Vediamo un po' Arriviamo a 5 colpi Proviamo 5 colpi di gioco Non si sa mai Perché può darsi Che possa ripetersi Prima mettono un'ambatta Poi magari Magari il resto arriva dopo Quindi attenzione Classifica del 90 Dovrebbe essere invariata Quindi non c'è nessuna variazione Sennò che Quel 9 Che scende proprio a Roma Quindi attenzione Il 9 Del Scusate che non ce l'ho sotto mano Dove l'ho messo? Questo qua Vedete Il 9 di Palermo Scende a Roma Quindi Roma si va a convalidare Anche il 9 E per Firenze Quindi attenzione Il 2,90 Più il 9 Queste tre ruote Potrebbero rivedere Il 9,90 L'ambetto Attenzione a queste tre ruote Sono fortissime Il Firenze e Roma Primaria Milano Secondaria E Venezia Anche la secondaria Quindi per prime Firenze e Roma Con il 9,90 Terza la Milano 9,90 E Venezia Sempre con il 79,90 C'è scappato il 60 Adesso vedremo Magari il 79 77,90 Potrebbe essere fattibile Ci risentiamo Mandate sempre gli scontrini Al 351 758 8660 351 758 8660 Ci risentiamo Al prossimo video Stanno arrivando Una caterba Di scontrine In corna volta Sono felicissimo Per la seconda volta consecutiva Si va in cassa Buona serata a tutti E a domani E a domani E a domani Qui